E di un ferito grave, un 25enne trasportato d'urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia, il bilancio dell'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri sulla strada provinciale 15 che collega Trinitapoli a Margherita di Savoia. Una Fiat Stilo con a bordo 4 ragazzi è uscita di strada terminando la sua corsa contro un palo per cause ancora in corso di accertamento e sulle quali stanno provando a fare luce i carabinieri di Barletta intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Tra i giovani coinvolti nell'incidente è anche una ragazza di 16 anni. Le indagini dei militari si stanno inoltre concentrando sulla provenienza dell'autovettura dai primi accertamenti risultata rubata. A soccorrere i feriti due ambulanze del 118 ed un elicottero di Alidaunia proveniente da Foggia sul quale è stato trasferito il ferito più grave.